Troppo brutta l'Aquila o troppo bella la San Benedettese o la verità sta nel mezzo come sempre? Sicuramente la verità sta sempre nel mezzo. La partita fino a un certo punto è stata anche equilibrata, poi secondo me il gol nostro ci ha un po' spianato la strada. Poi il rigore ha chiuso definitivamente secondo me i giochi con l'espulsione e quindi è stata una partita in discesa. Siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo a continuare a giocare, a cercare il gol per non cercare di far riaprire la partita all'Aquila che è una squadra forte. Non la scopro certo io, quindi quella è stata la nostra forza. Quindi complimenti ai ragazzi perché hanno dato dimostrazione di compattezza e questo è un buon viatico per il futuro. Andare a cercare la quarta, la quinta, anche la sesta eventualmente marcatura serviva soprattutto a cosa? A riappacificare con quei tifosi che a Notaresco avevano chiesto essere Samba, essere San Benedettese? Sì, no, no, riappacificarsi con i tifosi perché i tifosi hanno ragione quando la squadra non gira e quindi è giusto che sia così. I tifosi hanno ragione ma il resto secondo me deve avere pazienza, deve avere compattezza perché qui a San Metto ogni volta che non si fa un risultato si cerca sempre il capo espiatorio. Ma io le responsabilità me le prendo. Mi dispiace soprattutto per il direttore De Angelis perché secondo me ha allestito una grossa squadra che deve crescere e che logicamente deve lavorare tanto perché siamo quasi tutti nuovi rispetto all'anno scorso. E quindi è una squadra che si deve conoscere e quindi questa vittoria è un buon viatico, come dicevo prima, per il futuro. Certo che non è che oggi finisce il campionato, quindi le difficoltà le troveremo ogni domenica perché se pensiamo che ogni domenica noi facciamo 5 gol agli avversari non abbiamo capito niente. Oggi ci è andata bene perché siamo stati anche bravi e fortunati nel momento clou della partita e quindi guardiamo avanti e speriamo che magari tutte le domeniche potessimo chiudere la partita con 5 gol. Ma non è così perché poi i campi sono difficili, le squadre avversarie si studiano, magari vanno in vantaggio e si chiudono per 90 minuti e quindi ogni partita ha una storia a sé. Quindi godiamoci questa vittoria ma sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto. Individualmente dove può arrivare Leonardo? Leonardo è un giocatore, io l'avevo visto già l'anno scorso quando giocava contro di voi all'Aquila nell'unica partita da titolare che fece in campionato, anzi nei play-off. Mi sembrava un giocatore interessante, un giocatore sul cui si poteva lavorare. Sta lavorando forte, sta andando forte e secondo me ha grossi margini di miglioramento e quindi è un ragazzo che ci potrà dare una grossa mano.